Rieccoci qui dal Salone del Risparmio, sono in compagnia di Stefano Reali, rifaro SICAF, grazie per essere qui con noi. Parliamo subito di alcuni investimenti tematici che vi vedono protagonisti, soprattutto in ambito tecnologico, dove si parla anche di biotech, infotech, intelligenza artificiale, sono temi che affascinano sempre molto anche i nostri telespettatori. Sì, buongiorno a tutti, effettivamente sono dei temi che seguiamo molto, in ambito azionario abbiamo infatti due comparti che investono esattamente su queste tematiche, perché sono delle tematiche, come giustamente lei diceva, estremamente attuali, ma soprattutto, secondo noi, che rivestono una grande rilevanza e importanza, attrattività per gli investitori. Parliamo infatti dei settori che più di ogni altro settore investono in ricerca, gli uni in ambito farmaceutico, quindi biotecnologico, gli altri in ambito tecnologico. Sono dei settori che sono molto vicini l'uno all'altro, pensiamo soltanto alla terminologia biotecnologie, la stessa parola mette insieme le due tematiche, quindi investimenti in ambito farmaceutico e in ambito tecnologico permettono a queste società di essere caratterizzate da crescite che non si vedono nelle altre parti del mercato azionario, parliamo infatti di crescite di utili che viaggiano tra il 20 e anche il 30% all'anno e quindi da ritorni molto interessanti per gli investitori che abbracciano queste tematiche. Ecco, oltre a queste tematiche, in ambito tecnologico abbiamo visto anche con che tipo di ritorni, vi state focalizzando anche sempre in ambito azionario sul mondo delle utilities e delle infrastrutture regolamentate. Ci può dire qualcosa in più su questo? Sì, anche questo secondo noi è un tema estremamente interessante che non viene seguito da moltissimi perché parliamo di una nicchia di mercato ma all'interno di questa nicchia noi vediamo moltissimo valore. Parliamo quindi sostanzialmente di reti infrastrutturali, quindi di business di interesse strategico per ogni paese in cui questo business è. Quindi per fare un esempio sono reti di trasporto di elettricità, di gas, di acqua e per chi non lo sapesse questi sono dei business che sono caratterizzati da ritorni che sono garantiti e gli investimenti che queste società realizzano per mantenere e sviluppare queste infrastrutture sono appunto remunerate da un meccanismo regolatorio molto chiaro, molto lineare che ne garantisce una crescita di utili che forse non è paragonabile a quella dei biotech o dei tech però dall'altra parte è caratterizzata da una stabilità e da una linearità della crescita veramente molto interessante. Parliamo quindi di un investimento in azioni che è caratterizzato da una crescita di utili quindi anche del prezzo dei titoli sottostanti a doppia cifra ogni anno ma con una volatilità che è molto più simile a quella di un'obbligazione proprio per questa difensività di questi tipi di business ed è un settore molto spesso decorrelato dai mercati perché sono proprio quei settori in cui gli investitori vanno a rifugiarsi nel momento in cui sui mercati c'è negatività. Perfetto, per cui se possiamo dire due strategie leggermente diverse anche se sempre collegate a ambito tematico e azionario ma magari la seconda un pochino più in ottica di protezione in ottica un po' più difensiva. Perfetto, io ringrazio nuovamente Stefano Reali per essere stato con noi e a questo punto buon Salone del Risparmio 2019. Grazie a voi.